segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te però baiardo non è che voi dico voi chi le ha detto la cosa i suoi amici palermitani legati alla mafia ovviamente abbiano consigliato matteo messina denaro visto la situazione molto grave di consegnarsi potrebbe anche essere questo che lui ha allentato molto le attenzioni perché sa è incredibile un capo mafia si faccia i selfie si faccia le telefonate con le amiche dell'ospedale cioè è veramente un atteggiamento o era superprotetto con sicuro che non gli succedesse niente oppure cercava perché voi gliel'avete detto di farsi catturare diretti è difficile rispondere a questa domanda è molto difficile è una domanda però è una domanda che ha prescenari inquietanti anche questa qualcuno glielo può aver detto sicuramente sa che alcuni dicono che lei ha contatti e rapporti con i servizi segreti no questa è una grossa stupidaggine come la stupidaggine per me i 200 chili di tritolo che erano destinati a martelli se un mafioso sei servizi se chiunque vuole eliminare martelli dalla scena politica nel momento che lui è ministro di grazia e giustizia a tutti perché potrebbe aprire una gara sto dicendo non c'è bisogno dei 200 chili di tritolo basta un colpo di basta portarlo alle dimissioni come è successo baiardo e attendi certo baiardo è attendibile vi voglio far